Io da Presidente del Consiglio pago l'Europa e pago un carrozzone inutile come l'ONU che costa 15 miliardi di euro all'anno e non ho capito a che cosa serva, quindi io Presidente del Consiglio tiro sul telefono e gli dico scusate signora ONU, scusate signora Nato, scusate signore di Bruxelles, mi date una mano, mi fanno tre pernacchie da mesi come stanno facendo e mettono giù il telefono, io segno però sull'agenda, ONU, Nato e Unione Europea se ne strafottono. Io vado a trattare e a pagare e a pagare come fece Berlusconi quando era al governo, non c'è nessuna soluzione gratis, se voglio salvare delle vite, se voglio fermare un'invasione, voglio provare a dare una mano al continente africano a non spopolarsi devo pagare dei soldi. Quindi io fossi Renzi invece di andare in elicottero ad Aosta, a Trento, a Bolzano per raccattare tre voti, io andrei in Nigeria, andrei in Gambia, andrei in Mali, andrei in Senegal a chiedere a quei governi di cosa avete bisogno, di quanti soldi avete bisogno e invece di spenderli qua ve li do là, quei soldi. Grazie. Grazie.